I cittadini tendono a scegliere il loro sindaco guardando la persona nella quale si riconoscono che pensano abbia più competenza e capacità. Flavio Tosi ne fa una questione di battaglia amministrativa in senso stretto, ma è chiaro che la partita di Verona ha già raggiunto il clima da coltelli. Non potrebbe essere altrimenti in un centrodestra che nel capoluogo scaligero non trova la convergenza piena e rischia di avere ripercussioni sulle altre alleanze deciso in via di definizione a Padova e Belluno. Inevitabile, visto che la Lega e i Fratelli d'Italia hanno stretto il patto per il meloniano Sboarina, mentre Forza Italia sta con Flavio Tosi e le frecciate sono già partite. Il sindaco di Verona nemmeno considera Tosi un vero avversario, come ha detto in questi giorni. Non ho capito di cosa faccia parte, sinceramente. A Verona ci sarà una competizione tra il centrodestra e il centrosinistra. Flavio Tosi mi sembra che negli ultimi anni sia passato un po' da tutto dal contrario di tutto. Non è un problema mio, evidentemente. Io penso che il centrodestra che si sta aggregando sulla mia candidatura praticamente tutto si confronterà con il candidato di centrosinistra perché quella sarà una partita sostanzialmente a due. La risposta di Tosi non si fa attendere. Il sindaco Sboarina è in carica, si mette a polemizzare su cambi di casacca e movimenti. Lui è stato indicato dalla Lega, è messo lì dalla Lega, è passato a Fratelli d'Italia qualche mese fa. Un paio di polemiche un po' sterili, francamente. Penso che i veronesi sceglieranno tra me e lui e Damiano Tommasi sulla base di quello che valutano la nostra capacità di governare e reggere la città. Una frattura, quella tra la coppia Lega-Fatelli d'Italia da una parte e Forze d'Italia dall'altra, già vista le ultime amministrative con il caso Conegliano, una scoffitta che il carroccio ancora non ha digerito pienamente. A Verona, dinamiche e un passato diverso, ma la sostanza non cambia. Gli azzurri di Berlusconi sono irremovibili, mai con Sboarina. Una battaglia interna della quale il candidato del centro-sinistra, l'ex calciatore Damiano Tommasi, potrebbe approfittare.